e lo è ragazzi eccolo se lo sentite e basta faremo delle partite così per divertirci e basta ma lui la via magari poi giochiamo facciamo delle competitive dopo molto interessato molto interessante ovviamente questa è la mia macchina beh dai sento la mattina profumo accesso in corso champions non che capis con io sono bella un'isola ragazzo quasi mai non so cosa ma io 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 vado io vado io vado io sempre vada a per ora devo andare a prendere il curvo min secca vado io vado io non ho manco il turbo segno segno ha visto che crosto ho fatto non ti è piaciuto mirata col ciamioncino guarda il centro il centro ma la contadine no 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 ok no non ci vede non pensavo a ma che sono dato allo albiccio no perché mi venuto con un testo a riferire nella vallatumi si è venuto avanti io lato di guardare avanti ho fatto esplodere c'è il mio uncino ma è possibile sarà americano sicuramente se c'è il turbo se c'è il turbo no vabbè l'ho mancata di zerger 05 vabbè è certo è certo non posso sbagliare certe cose a questi livelli ma è senso oggi ma è normale che c'ero io ragazzo se veloce quello diverso aspetta che muovo c'è un cross sono sogni questo una raga che ti va schifo vai 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 un conto e giocare per la stia non posso giocare guarda quando lo guardano ci rimettere un po di più a capire tizio poi dice guardano e guardano ti lasciato double mamma mia mamma mia stai zitto vado io vado io non ci credo buonanotte il turbetto perché sennò vuoi la mia 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 non me ne sono accorto dopo perché non hai fatto niente non ti sei manco impegnato a prendere guarda ah ok pensavo avessi mancava una contro 1 perché io devo fare le tattiche quelle importanti non posso pensare a certe certe cose si si vai bene va davanti va davanti al centro al centro vado in mezzo ecco qua ecco qua non ci crea non è un problema è proprio un cross straordinario vuoi vado sbagliare no no ero ho cliccato per sbaglio shift ma questo c'è lancino già bene c'è chi ha più potente c'è c'ha più probabilità di prenderlo in poche parole però è vero è vero perché le proporzioni sono diverse ma dove il ciamioncino è essere un ciamioncino e allora vado ma che dici però vabbè sempre mastodonti ma dove lo vedi eccolo sto coso quali ora ma non c'è l'uncino per mesi e per mesi non c'è l'uncino vabbè concorso no camioncino blocca vado io no vado io no ci vedo avessi avuto un po più di turbo ma in realtà questo sembra una pocata ne parale in realtà però sembra una poca regata no non è noto potente stiamo vincendo comunque 12 che si vede questo non hanno sbagliato come su a me una volta tipo su delle amichevoli fifa mi cambia mi ascomi aveva il nome con l'avversario non so perché però era però era così a mio 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 amico anno la credo non ci credo no 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 vediamo che stiamo vincendo raga e bella dice provato c'è provato e bloccato mentre stanno andando veloce col turbo ormai che ho fatto il doppio salto io ti ho bloccato lo ricorderò le prove meno di me lo ricordano che ricorderò adesso anche di un bloccato non lo sto qua ma vabbè raga ma questa non vale e non ti ho bloccato qui ma vabbè ma tu dove eri io sto prendendo il turbo non vai non è colpa mia e no io l'ho preso è un cross al centro è un cross al centro a me lo tocca a me lo spinto non vale a me pure mi stanno laggando le mani da me no no vai 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 avanti ma sta palla mamma mia che smirci ragazzi assicuro che prima parla per te parla per te parla per te a tua zitto che tu sei più smirci univelo davvero non l'avevano dato io però guarda beh se sono chi nota se stesso tu dici e se sei con me sei troppo forte vincitore che scherzo forse indiani sono gg come di me come si permette questo scrivere gg abbiamo dai facciamo facciamo uno v1 vabbè facciamo come io non ho sempre compenuto l'altro competitivo sono abituato a vincere poi tu stai giocando con gli argento non sei abituato siamo un'arena bella ti ha di essere se farle personalizzate era una partire ok avvio io allora io entro negli arancioni e tu nel blu perché scusa così sono entrato aspetta insomma si ora la tentano laggare ma non so perché come una cosa in alto a destra vabbè adesso vediamo che è davvero il più forte meno che non mi lagga un cavolo e stavo nello piatto vabbè stavo ponendo in ora sta iniziando a laggare ma non dipinge sono quando giochi con me è l'area possibile erano perciò che ho un no no no, adesso sono storto io ho fatto un premio no no senza turbo stavo e mi sono anche io sono senza anima anche stato senza lui e lei pure ha preso la valla intanto non c'era vabbè si è sempre scusato ma non è la verità 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 cosa ne presa la valla manca dire che l'hai mancata sicuro non vale ciò ci vedere io si vede più forte una fortuna gol no dove sta andando dove sta andando e segna 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 aspetta fortuna ma raga questo ma i tira 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 che mi ha già stata vuota incredibile poi poi entra entra wow manche no 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 fortuna 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 no dai raga questo gioco i giorni non gioco mai che cavolo vuoi no come mai gioco solo sei ore gioca a fifa io non gioco mai devo aspettare sempre un'ora no devo aspettare sempre tre ore per giocare ma non si sono così solo sta scusa quando vuoi applicarti quando vuoi ma guarda no raga sta laggando sta laggando il pps no raga è rosso no raga sto laggando un botto oh fermo per play per play ma vuole per play oh un po' di per play per play la sto togliendo aspetta sei fermo però non devi toccare la palla e se stai laggando no adesso va bene ah se adesso va bene eh per play adesso va bene che vuoi vai a fare per play prima stava laggando prima tu devi fare per play non adesso oh mamma guarda tira tira no raga comunque avrei segnato eh non volevo dire che vado io vado io no no perché mi spingi chi c'è in mezzo chi c'è in mezzo si vuole farla con un botto veramente se vogliamo boom oh così almeno ti aiuta devi fare un cross no 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 come no 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 si 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 sì si superi all'inter Sound anche qua guarda guarda con lonti per ora ora che finta sono no spingere non sto spingendo il suo spinguto no no un poco da rama se questa non è fortuna che cosa in bravura ti aspetto vieni qua vieni di aspetto aspetto padrono aspetto padrono allora ora che cross me fattore spettacolo io ho fatto parlare in questo modo no grande 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 abbiamo il turbo smirciola bravo non ci credo non ci credo raga perché non avevo turma sicuro sì io non manco c'avevo molti è più vicino però 3 a 1 prolungare il tempo qua è solo cinque minuti se mi sa pure a 10 se personalizzata sicura 10 ma che serve ti aspetta ah beh dai facciamo le competi no 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 dopo quando si sta partita ma la vostra parte facciamo un pedi viva con pedi viva facciamo facciamo la facciamo ricerca del calore cerca cerca del calore facciamo canestro no adesso non è divertente ce l'ha detto solo una volta nel 2016 va bene non mi piace che vuoi fare Fai ricerca del calore Cerca del calore Ricerca del calore Lo stai facendo Mettilo mettilo è più divertente Ma cos'è? Provalo mettilo Ma dov'è? C'è ricerca del calore Ma che cavolo è sto ricerca del calore? Mettilo Dov'è mettilo? E' una modalità E dov'è? Tu stai facendo personalizzate Sai tu Ah personalizzate E cosa hai ricerca del calore? Cosa hai? Molti Ma lo vedi Ho detto Non c'è Vabbè 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 No capisco Ma tu non sapeva Un cavolo di muro Ho detto dove sta Ho detto Cerca Non ho mai fatto Non ho mai avviato una competitiva Che voi C'è una cosa C'è una cosa C'è una cosa C'è una cosa Partita privata Ricerca del calore Ecco mamma mia E' una cosa difficile Vabbè io sempre rossa Vabbè 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 Ma che cosa è? Ah Quella cosa che schifo Ma sei serio? Ma sei manco Sono entrato S'entrato? No Devo riavviare la partita Sì Ma sei la squadra mia Ok C'è una partita Sto entrando a te No Non sta entrando Sto ancora in lobby Che La squadra Allora Senti Ah Spero Lo rimetto Vediamo Ecco Può entrare? Sì Adesso sì Perché Forse avevo scherciato Qualcuno Aranciano io No Io oggi sto a modalità Raga Sono smirci Allo bollare Manco io Vamo forte Veramente No Ma dopo questa Compete io Blu Ci penso io adesso Raga me sta un po' laggando Un pochetto Questa non la Questa non la prendi mai Attenzione Attenzione No Vabbè Non ci credo No Tra dieci minuti Mi si spegne Di forza Dai Mi facciamo una Compete Dai Vabbè dopo Dopo questa 5 minuti Vai Fuori Fuori E fuori E fuori No No Non abbandoni Niente Guarda Non si Non si Proprio Compete La Facciamela Compete Quella Gio Questa Schifo Stavola Raga Dai No Ci abbandono Vabbè 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 Eh Ma non è Vabbè Sì Aspetta Sì Ecco Vai Vai Compete Ok 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 Adesso Abbiamo vincito Speriamo Sembra Non mi larga Però Tobi Nel cuore Nel cuore Champion Champion Field Champion Field Champion Che vuole Field Field O Non lo sai Che vuole Dire Dai Sentiamo Lo so Però Non te lo voglio Dicare Ah Sì Sì Lo sai Bene Che lo so Sì Sì Ovviamente Non Non Dubiterei Mai Di una cosa Del genere Che fintazzo Che ho fatto Sì Sì Guarda Ma Ma Che cavolo hai fatto Hai sminato La palla No era una pinta Come faccio Smirare una palla Così vicino Vuole Che Non Una pinta A parlare Non Una pinta Vai vai Se non la facevo Se non la facevo Se non la facevo Si ci si Non Già Perché Guarda Guarda Stavo bene L'ha preso Vai 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 č questo e porta Questa mi blocca e gol l'ongoletto quanto vale no e poi no per un attimo non ti senti ma in realtà non mi senti ok ti senti a condarmi il profilo bio no sto tipo concentrato anche se sbaglio sono concentrato no non ci credo come si è fatto superare no tu no io sto vedendo il tuo nome dove dove il turbo vado che stai facendo sempre turbo prendi importante importante da un 0 9 come cosa però da batterci sostanzialmente sarebbe bello un bel tanto sono sicuro al 100 per cento a dare il contro il controllo al fratello perché non sono giocato quando siamo forti ovviamente fratello il controllo così lo puoi battere così mi ha spinto eh mi ha spinto sei sempre ti spinto davvero bravo no vai 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 guardalo 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 e gol e gol basta che tiri basta che tiri questa è sfiga o ho sbagliato io non lo so vabbè la sigla vabbè guardate che giocato si gira attenzione la porta in avanti con la pausa chi è se stava centro capo anche in 5 minuti si spegne sto giocorso giforce 9 o comunque stiamo facendo cento di bingo per colpo di sto wifi davvero non conviene ma è possibile extra super fina abbiamo messo pure la fibra ottica ma non so se funziona solo con l'anno di carta hanno messo sta andando male tu fai 170 di bingo davvero davvero infatti a me laga pure su fifa c'è tutto milagro mi sto laggando adesso non c'è pure prima prima della prima della fibra andava meglio su internet c'è sempre andato male però però non è vero si a me non cambia nulla non è cambiato nulla non è mai faceva 60 sì sì anche adesso fa 60 40 ma ma dopo un po sì ho capito male sto dicendo ma prima prima che prima prima era un po meglio rispetto a nevano un latino era un po ma che prima facciamo a 190 di bingo a beate a meno dopo un po a meno da play più e più si dice meglio dalla play invece non è vero dire che accade se come dico io questo ragazzi non sa nulla di tecnologia poi balla a caso non ci che ho sempre ragione infatti no no non dovevi non dovevi e no tu sei venuto avanti a me che vuoi vabbè intanto sono primo voglio fare una rovesciata da un po avanti vabbè due vediamo se vediamo se vado io vai te lo so vai balla in avanti dai già sei più agevolato con la balla in avanti sei più agevolato non ci credo se non c'era lui la mia hanno spinta vabbè vabbè esplodi esplodi che ti devo dire vai 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 te vai te porta sta in porta non ci arriva anche col turbo ci arrivo dietro amico mi raccomando no 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 mi domina ci penso io spero va bene nel turbo un attimo poi non si sento più la sua so sera so tryhard'an due e nella tra gli altri entrò gli altri in mondo tutto calcolato zitto 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 no ma che fanno due volte no l'espina fatto è spinta però no l'ho cercato di salvare a differenza di qualcuno però l'ho toccata alla fine per salvarla vabbè vabbè potete andare più avanti potete andare più avanti e te non potevi mandarla in porto l'ultimo gol l'ultimo gol vai in mezzo vabbè in mezzo stavo la io vabbè facciamo un anno ma come bevi e qua a ragazzi io chiudo quella live di rocket league do adesso ne riapro un altro mio fratello e la vedrete e basta lasciate like alla live iscrivetevi e commentate ciao ragazzi